Violenza sessuale aggravata commessa ai danni di due ragazze di cui una minorenne entrambe affette da deficit cognitivo. Queste le contestazioni a carico di un giovane di Nicosia arrestato dai carabinieri della compagnia di Mistretta. Sono stati militari del centro montano a dare esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa del GIP del tribunale di Enna Giuseppe Di Noto su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Enna Daniela Rapisarda. L'indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione da parte di un dirigente scolastico. Ha rappresentato ai carabinieri di avere sospetti che una sua alunna minore di 18 anni affetta da deficit cognitivo fosse stata vittima di abusi sessuali. Avviate le indagini coordinate dal PM Daniela Rapisarda, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Mistretta, coadiuvati da esperte psicologhe, hanno accertato che effettivamente il giovane aveva attirato con l'inganno la minore sulla propria autovettura e condotti in un luogo appartato ne aveva abusato sessualmente. La vicenda ha assunto contorno ancora più inquietanti quando i carabinieri hanno accertato che verosimilmente il giovane aveva abusato anche di una seconda ragazza, anch'essa affetta da deficit cognitivo. I successivi riscontri hanno confermato che il giovane aveva violentato attirandoli in un posto appartato anche la seconda ragazza. Per timore gli episodi di violenza sessuale non sono stati segnalati dalle vittime alle rispettive famiglie. Da qui il PM ha richiesto al GIP la misura cautelare a carico del giovane e il giudice ha disposto la custodia cautelare degli arresti domiciliari per evitare che venissero adescate altre ragazze. Ultimate le formalità di rito il giovane è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Questo risultato si è potuto ottenere grazie alla sinergia tra scuola, carabinieri, procura e ufficio GIP. Si è riusciti infatti ad accertare e ricostruire le drammatiche violenze sessuali subite dalle due vittime particolarmente vulnerabili che proprio per via della loro vulnerabilità avevano tenuto nascosto gli eventi alle rispettive famiglie e a porre fine alle condotte del giovane.